Ciao a tutti ragazzi e come sempre benvenuti in questo nuovo video Oggi come sempre vi porterò i pronostici dei quarti di finale di andata Ragazzi però dato che sono solamente 4 partite il video sarebbe veramente molto veloce Allora mi è venuta questa idea Io vi dico il mio pronostico cioè quello che secondo me ci dovrete mettere alla schiena Più il risultato esatto di quella partita Dunque ragazzi ditemi se vi piace questa idea Magari lo porto anche la prossima volta che ci sono i ritorno dei quarti di finale Altrimenti ragazzi se non mi piace questa idea le semifinali non porto più i pronostici Perché veramente sono solamente due partite che cosa vi ve lo pronostico a fare Nel caso ve lo pronostico su Instagram perciò andatemi a seguire su Instagram Pai mette trazzino basso x Quindi ragazzi andatemi a seguire su Instagram Possiamo partire con il video Ragazzi Juventus-Real Madrid è la prima partita che giocherà martedì Martedì sera Ragazzi io vi consiglio un gol e entrambe le squadre segnalano Perché gol e entrambe le squadre segnalano? Penso che la Juventus in casa è obbligata a fare gol a Juventus in casa Se non la Juventus non farà gol in casa prende il 50% della qualificazione se ne è andata a far fotte Perché poi al Bernabe è veramente difficile Il Real Madrid con la squadra che ha, con i giocatori che ha penso veramente che farà il gol dell'1-1 Secondo me ragazzi la Juventus questa partita la vincerà Però vi consiglio un gol Io ragazzi poi come risultato esatto Secondo me finirà 2-1 Secondo me 2-1 Juventus Adesso non ditemi male ma secondo me finirà 2-1 Juventus Io vi consiglio quello che mi sento Adesso non so come spiegarvelo Andiamo avanti perché la seconda partita del martedì è quella di Siviglia-Bayermonaco Siviglia-Bayermonaco non penso sia una partita difficile per il Bayern-Monaco Però come abbiamo visto il Siviglia alla fine è riuscito ad eliminare il Manchester United di Mourinho Comunque penso che il Bayern-Monaco abbia un po' più di esperienza rispetto al Manchester United Infatti vi consiglio un 2 fisso Perché ho fatto così un 2 fisso ragazzi Vi consiglio un 2 fisso per il Bayern-Monaco Risultato esatto 0-1 Juventus 2-1 Juventus Il Siviglia secondo me non riuscirà a far gol in casa perché ho appunto questo presentimento Il Bayern-Monaco penso che li farà tranquillamente Andiamo avanti perché il mercoledì subito dopo il derby si apre la Champions League Il derby si recupererà alle 6 e mezza E poi successivamente dopo il derby ci saranno le partite di Champions League La prima partita è Liverpool-Manchester City ragazzi Due squadre inglesi Meglio così ragazzi Meglio così perché adesso le squadre inglesi sono finite Altrimenti molto probabilmente potevamo anche vedere che ne so Una finale inglese tra Liverpool e Manchester City Perché veramente le squadre inglesi gioano bene a calcio Io ragazzi comunque vi consiglio un X fisso Due squadre che si conoscono Già si sono affrontate in stagione appunto in campionato Io vi consiglio un X fisso Che cosa significa X fisso? Che la partita finirà in pareggio Io vi consiglio come secondo me finirà 1-1 Non andrà oltre 1-1 questa partita Perché appunto ragazzi sono due squadre che si conoscono Appunto hanno giocato molte volte contro quest'anno Quindi vi consiglio un 1-1 e X fisso E per finire ragazzi Barcellona-Roma Barcellona-Roma sempre alle 20.45 di mercoledì Anche questa bella partita La Roma parte per prendere la strass favorita Però ragazzi nel calcio tutto è possibile Comunque non mi sbilancio rispetto un po' le aspettative Ragazzi vi consiglio un 1-1 fisso Perché un 1-1 fisso? Perché secondo me il Barcellona ha un gioco superiore a quello della Roma Come pronostico del risultato esatto Vi consiglio 3-1 per il Barcellona O 3-1 o 2-1 Però mi sento più sul 3-1 Perché il Barcellona in casa Come ha dato 3 pere al Chelsea di Conte Secondo me darà anche 3 pere alla Roma di Francesco Però secondo me alla fine il gol la Roma lo troverà proprio con Edinger Vi do anche il marcatore Edinger Dunque ragazzi come sempre fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti Se non vi siete visti l'ultimo video del post partita del Fanta Calcio Vi lascio qui sotto il link in descrizione Io vi ricordo di iscrivervi al canale Di lasciare un bel like Noi ci vediamo in un prossimo video e bella Ciao